abbiamo qui con noi l'allenatore del momento non vedo l'ora di ritorno a giocare ringraziamo ringraziamo intanto il mister l'abbiamo sempre vista con un'ottima performance in campo il più forte calciatore al mondo è aristoteles e guarda è mica soltanto convinto è sta cosa è aristoteles ma non è un problema figliolo grazie a tutti